Un terribile incidente avvenuto intorno alle 15 di giovedì 19 gennaio sulla 9 tra Uboldo e il Bivio per la 8 Milano Varese in direzione Milano. Sul posto è accorso il 118 con due ambulanze, degli soccorso, i vigili del fuoco dopo il violento schianto avvenuto tra un camion e un'audi a rimanere ferito in modo grave è stato il conducente di quest'ultima. Un 55enne che è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco è stato trovato in arresto cardiocircolatorie con traumi a testa, torace e braccio e trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Legnano. Soccorso anche l'autista del camion, 65enne che fortunatamente non ha riportato traumi seri. Grazie. 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 Grazie.